L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, capitolo 26 Israel Hands Quasi dal secondo dare nostri desideri, il vento era cambiato e ora aspirava da ponente, dal lago nord orientale dell'isola fino all'imbocatura della Cala Norte, quindi potevamo filare ancora più veloci, soltanto che, non avendo abbastanza buoni per dare fondo all'angora e non usando a farla renare fin quando non fosse salita la marea, di tempo ne avevamo in abbondanza. Il nocchiere mi disse come fare a mettere la nave alla cappa. Dopo molti attivi riuscì e ci sedemmo a mangiare qualcosa in silenzio. Capitano, disse dopo un po', con quel sessore disinquietante, col mio vecchio compagno, Obrien, là. Perché non l'ho buttata in mare? Di solito non sono spizzinoso e non mi sento nemmeno in colpa avergli dato il fatto suo, ma non mi sembra proprio quello che si dice decorativo, no? Non sono abbastanza forte e non mi piace il lavoro, e per quanto mi riguarda rimane là, dissi. Non aveva sfortunato questa spagnola, Jim, continuò, facendo l'occhietto. Ne sono stati ammazzati parecchi di uomini su questa spagnola, tanti poliomarinai, morti, stecchiti da quando io e te ci siamo imbarcati a Bristol. Non ho mai visto un tagliella nera. C'era questo, Obrien, qui. No, è morto? No? Beh, dico io, non sono molto istruito e tu sei un ragazzo che sa leggere e far di conto, insomma. Per parlarci chiaro, secondo te, un morto è morto per sempre e vive di nuovo? Potete uccidere il corpo, signor Hans, ma non lo spirito, questo dovete saperlo già, risposi. Obrien, lì, è all'altro mondo e forci sta guardando. Ha, fa lui. Beh, è un peccato, sembra quasi che uccida la gente, sia una perda di tempo. Comunque, gli spiriti non contano granché. A quanto ho visto io, finché si tratta di spiriti, son pronto a correre il rischio. E ora che hai parlato liberamente, mi faresti un fuore. Se scendi in quella saletta laggiù e mi prendi una, ecco una, mi prenderesti in colpo. Non mi viene la parola, ecco, mi prenderesti un utile di vino. Jim, questo Brandy qui è troppo forte per la mia testa. L'esitazione del nocchiere, però, sembra naturale. E quanto all'idea che per il servino al Brandy non ci credevo davvero. Tutta quella storia era un pretesto, volevo che lasciassi il ponte. Questo era chiaro. Ma per quale scopo non potevo immaginare, non mi guardavo mai negli occhi. Ma lasciava vagare lo sguardo di qua e di là, in su e in giù. Ora guardava verso il cielo, ora lasciando un'occhiata furtiva verso il cadavere di Obren. Intanto non faceva che sorridere e tirare fuori la lingua, pieno di imbarazzo e con fare colpevole. Tanto che anche un bambino avrebbe capito che stava macchinando qualcosa. Tuttavia consentì subito, perché mi resi conto di avere vantaggio su di lui. Visto che una persona di una stupità così abissale, potevo facilmente tenere nascosti fino all'ultimo i miei sospetti. Del vino? Dissi. Meglio, certo. Volete del bianco o del rosso? Beh, amico mio, penso proprio che faccia lo stesso, rispose. Basta che sia forte e che ce ne sia tanto. Che differenza fa? Va bene, rispose. Vi porterò dal porto, signor Hans, ma dovrò cercarlo. E così, dicendo, mi infileggio per il boccaporto, facendo più rumore possibile. Mi sfilai le scarpe, percorsi inziosamente il passaggio, ricavato con le travi, salì, per la scletta del castello di Prua e mi affacciai sotto la cappa del boccaporto di Prua. Sapevo che non sarei mai aspettato di vedermi lì. Ma presi comunque ogni percorazione possibile, ed ecco che i miei peggiori sospetti si rileverranno fin troppo fondati. Si era alzato, mettendoci i carponi, e per quanto ogni movimento la gamba gli procurasse un dolore lancinante, Ludi infatti tenera un gemito, si trascinò abbastanza speditamente per il ponte. In mezzo minuto raggiunse gli umbrinali di Baborto, e da dentro una fune arrotolata estrasse un lungo coltello, quasi un tozzo pugnale, l'ordro di sangue fino all'impugnatura, lo guardò per un po' sporgendo la mascella. Saggiò la punta sulla mano, e poi la nascose di fretta sotto la giacca e tornò, trascinandosi al punto in cui si trova prima, appoggiato alla murata. Non avevo bisogno di sapere altro, Israel era in grado di muoversi, ora era armato, e se si era tanto annato per togliermi il ritorno, era chiaro che la vita di un segnato dovrebbe essere io, circa quello che avrebbe fatto di seguito. Se cioè avrebbe provato ad avversare tutta l'isola, trascinandosi a quattro zampe dalla cala nord fino al campamento della palude, o sarebbe invece sparato un colpo di cannone nella speranza che i suoi compagni sarebbero arrivati per i primi. D'aiutarlo? Non potevo certo essere io a dirlo. Su un punto però sentivo di potermi fidare di lui, perché i nostri interessi coincidevano, vale a dire la sistemazione della goletta. Entrambi volevamo che si arenasse nel modo più sicuro possibile, in un luogo riparato, così che al momento opportuno potesse essere disincagliata con minor fatica e rischi possibili. Fino a quel momento ritenevo che la mia vita sarebbe stata risparmiata. Mentre il mio cervello rimuginava tutte queste cose, il mio corpo non era rimasto a far nulla. In silenzio ero tornato nella saletta. Mi ero filato di nuovo le scarpe e avevo afferrato la prima bottiglia che mi era capitata. Ora che avevo una scusa, potei dunque tornare in coperta. Enz era sdariato come l'avevo lasciato, ragomitolato su se stesso e con le palpebre abbassate. Quasi fosse troppo debole per sopportare la luce. Quando arrivai alzò gli occhi, con un giusto compiuto chissà quante altre volte, ruppe il collo della bottiglia e beve un lungo sorso accompagnato col suo brindosi favorito. Alla fortuna, poi per un po' non disse più nulla, finché tirata fuori una tavoletta di tabacco mi pregò di toglierle una cicca. Tagliamene un pezzo, mi fa, che non ce l'ho il coltello e anche se ce l'avessi non mi basterebbe le forze. Ah, Jim, Jim, sento che sto per ritirare le cuoie. Taglia una cicca, che forse sarà l'ultimo. Ragazzo mio, perché sto per fare l'ultimo viaggio? Me lo sento. Beh, dissi, il tabacco ve lo taglio. Ma se fossi voi e pensassi di essere così malconcio, reciterai le mie preghiere. Da bravo cristiano. E perché? Disse lui. Ora mi devi dire il perché. Perché? Credai. Un momento fa mi stavate chiedendo dei morti. Avete tradito il vostro dovere. Avete vissuto nel peccato, mentendo e uccidendo. Lì, ai vostri piedi, c'è un uomo che avete ucciso. E mi chiedete perché? Per l'amor di Dio, signor Hens, ecco perché. Parlai con fuga. Pensando al pugnale, insanguinato, che aveva nascosto in una tasca. E con cui progettava, nei suoi foschi pensieri, di ammazzarmi. Quanto a lui, beve un lungo sorso e parlò con inaspettata solennità. Per trent'anni, disse, ho solcato i mari. E ho visto il bene e il male, il meglio e il peggio. Il tempo buono e quello cattivo. Le scorte esauversi e, subito, salta fuori i coltelli. E non so che altro. Ebbene, ti dirò, non ho mai visto nulla di buono venire dalla bontà. Chi mena per primo, questo mi piace. I morti non mortano, così la vedo. Amen. Così sia. E ora sta a sentire. Soggiunse, cambiando posizionalmente tono. Adesso basta con queste stupidaggini. La mare è abbastanza alta ormai. Seguite i miei ordini, capitano Hawkins. Seguite i miei ordini, capitano Hawkins. E la portiamo dentro come una scheggia e non ci pensiamo più. In tutto non aveva nemmeno 2000 da percorrere. Ma la navigazione era difficile. Perché l'accesso a quella rada centronale era non solo stretto e poco profondo. Ma era orientato da est verso ovest. E bisognava manovrare la goletta con ogni cautela per poterla fare entrare. Credo di essere stato un buon subalterno. Pronto e sollecito. E sono sicurissimo che Hawkins fosse un ottimo pilota. Perché viramo più volte di prua. Suorando le secche e schivando con una sicurezza e una precisione che era un piacere a vedersi. Appena superate le due punte, la terra si estrinse intorno a noi. La riva della cara nord era coperta da fitti boschi, come quella della rada più a sud. Ma l'apertura era più lunga e più stretta. Più simile a ciò che in realtà era, ossia l'estuario di un fiume. Proprio davanti a noi, l'estremità meridionale. Vedemmo il relito di una nave ormai ridotta a un erudere. Un tempo era stato un grande tre alberi. Ma era rimasto così a lungo esposto agli intemperi che aveva i fianchi danneggiati di festoni d'alghe e gocciolanti. Le punte avevano messo radici di arbusti che ora crescevano, carichi di fiore. Uno spettacolo triste a vedersi. Ma anche una prova che l'ancoraggio era sicuro. Guarda, disse Hans, ecco lì un posticino perfetto per fare arenare la nave. Sabbia liscia e finissima, senza un alito di vento, alberi tutto attorno e fiori che sbocciano su quelle vecchie nave, come in un giardino. E' un'altra arenata? Domandai. Come faremo di scagliarla? Facile, rispose. Quando c'è la bassa marea, si porta un cavo a terra sul lato opposto. Gli si fa fare un giro attorno ad uno di quei grossi pini e si aspetta la marea. Arriva l'altra marea e tutti cominciano a tirare la cima. E via che si stacca, liscia come l'olio. E ora, ragazzino, stai pronto. Siamo quasi al punto giusto e a troppo brivio. Barra a dritta. Va bene. Via così. A dritta. Appena un po' a sinistra. Alla via. Così. Questi i suoi comandi, cui obbedivo senza affiatare, finché ad un tratto gridò. E ora bello mio, orza tutto. Io allora poggiai con tutta la forza la spagnola, Vierando di colpo, punto sulla bassa riva boscosa. La cessazione di questa ultima manovra aveva in certo modo interrotto la mia preoccupazione nel riguardo a un occhiere. Ancora in quel momento, mentre aspettavo che la nave toccasse, ero così preso da nemiticare un complitamente del pericolo che incombeva sul mio capo. E così mi sporsi dalle murate, diritta, a guardare le ondine, che si aprivano a ventalo davanti ai masconi. Sarei potuto cadere senza porre esistenza. Se un'iquitudine improvvisa non mi avesse fatto voltare la testa. Forse avrò sentito uno schiccolio, o forse avrò sentito la sombra con la corda dell'occhio, oppure sarà stato un istinto felino. Fatto sta che quando mi volce a guardare, c'era Hans, già a metà strada verso di me, con il pugnale nella mano destra. Quando i nostri guardi si incrociarono, lanciammo tutti e due un urlo pressoché nello stesso istante. Mentre il mio era un acuto grido di terrore, il suo sembrava il mio giro di un toro infuriato. Proprio allora Hans si lanciò in avanti e io balzai di lato, verso la spalla del timone. Nel farlo, molai la barra che scattò a sottovento e credo di dover la vita a questo, perché la barra colpì Hans in pieno petto, lasciandolo un talmente senza fiato, tramortito. Prima che potessi riprendersi, riuscire a sgattogliare nell'angolo in cui mi aveva stretto. Ora avevo tutto il ponte a disposizione per fuggire. Mi fermai davanti al labbro di maestra, estrassi di tasca una pistola e, pur essendo lui già voltato e avendo ripreso da avanzare dritto verso di me, presi con calma la mira. Premetti il grilletto. Il cane scattò, ma non seguirono né lampo né colpo. L'acqua di mare aveva infatti messo l'innesco fuori uso. Mi un'edì per la mia disattenzione, perché non avevo cambiato prima l'innesco e ricaricato le mie uniche armi. Non mi sarei trovato allora in quella situazione, come una pecorella in fuga davanti a un macellaio. Era spavacente la velocità con cui si muoveva, ferito com'era, con i capelli bruzzolati che gli cadevano sulla faccia rossa, come una bandiera rossa, per la furia e la rabbia. Non avevo il tempo per provare l'altra pistola, né, se per questo, né avevo una grande voglia, perché ero sicuro che sarebbe stato inutile. Mi rendevo conto che non doveva semplicemente entrare davanti a lui, altrimenti in breve mi avrebbe serrato con la prua, come aveva fatto in pochi secondi prima poppa. Una volta bloccato, a quel modo, i nuovi 10 pollici del suo pugnale insanguinato sarebbero stati l'ultima mia esperienza nell'al di qua. Mi appoggiai, perciò, con le mani al grande albumestro, che era bello grosso, e aspettai i nervi tesi allo spasmo. Vedendo che voleva schivarlo, anche lui si fermò a passare un paio di secondi con lui a fare delle finte e io a rispondere di conseguenza. Facevo un gioco simile anche a casa, intorno agli scogli della baia di Black Hill, anche se mai mi posso curare con il cuore che imbatteva così pazzamente in petto. Ciò nonostante, come ho detto, rimanevo un gioco da ragazzi, perché pensai che sarei riuscito a tenere testa ad un anziano marinaio con una ferita alla coscia. Il mio coraggio cominciò anzi ad aumentare, a tal punto che mi permisi qualche pensiero fugace su come sarebbe andata a finire quella scuola. Purtroppo, anche se potevo portare a lungo il gioco, non vedevo alcuna esperienza finale di fuga. Ma, però in quel momento l'espagnolo toccò, vibrando tutta e si incagliò per un attimo nella sabbia. Per poi abbattersi di colpo a babordo, fino a che il ponte non si trova inclinato di 45 gradi a una valanga d'acqua e il berretto rosso il morto ci ruzzolò presso a braccia aperte, risido come sempre. Eravamo così vicini, in effetti, che la mia testa andò a sbattere contro il piede del nocchiere con un colpo mi fece rintornare i denti. Nonostante la botta, fu io il primo ad alzarmi in piedi. Hans, essendo rimasto vingato dal cadavere a causa dell'improvvisa inclinazione della nave sul ponte non si poteva più correre. Dovevo trovare un altro modo per scappare e anche alla svelta perché il mio avversario si stava avvicinando rapido come il baleno. Balzai tra le sartie dell'albero di mezzano, picchiai in fretta e fu finché non stavo seduto sulla crocetta dell'albero di Gappi. Se avevo salvato la vita era solo grazie alla mia prontezza mentre fuggivo verso l'alto. Un fendente menato con il pugnale mi sforò a meno di mezzo piede. Vedi Israel Hans a bocca aperta con il viso valzato verso di me. L'immagine nella sorpresa è di già appunto ora la mossa toccava a me. Senza perdere tempo cambiai l'innesco della mia pistola e poi avendone una pronta all'uso per essere doppiamente sicuro mi mise a sottare la carica dall'altra e ricaricarla da capo. Hans rimase interdetto nel vedere quello che facevo e cominciò a rendersi conto che la fortuna sta avvolgendo a mio vantaggio. Così dopo una visibile agitazione si agitò anche lui sentemente sulle assartie e col pugnale tra i denti cominciò a salire lentamente e a fatica. La gamba ferita che si trassero dietro lo impacciava e lo faceva soffrire cosicché quando io tutta calma avevo già concluso i miei preparativi lui era ancora in un terzo della scalata poi con una pistola per mano mi rivolse a lui un altro passo dissi sono Hans e vi faccio adaltare le cervelle non mordono sapete aggiunsi con un isolino insomma di colpo dalle smorfe che faceva dedusse che stava cercando di pensare un lavorio così lento e faticoso sicuro che come mi sentivo adesso resi forte infine dopo aver inghiottito un paio di volte mi rispose col viso atteggiato alla solita per poter parlare dove togliersi dalla bocca il pugnale ma altrimenti non mosse un muscolo Jim fa lui temo che noi due siamo a un punto morto e dobbiamo raggiungere un accordo da averci ho fatto se non fosse stato per quello scossone ma io non ho fortuna no signora e questa con un pivellino come te Jim è una cosa dura per un marinai scelto stavo assaporando le sue elargendo sorrisi superbo come un gallo sul tetto quando fulmina si portò la mano destra dietro la spalla lo colse bilò nell'aria come una freccia sentì un colpo e un dolore acuto inchiodato con la spalla all'albero tale fu il dolore e lo stupore del momento né di sicuro presi la mira che partì un colpo da entrambe le pistole che mi sfuggirono dalle mani ma non furono solo loro a cadere con un grillo soffocato il nocchiere molò la presa sulle sardie e percipitò al capofitto dell'acqua grazie